La fioritura di alghe nel lago di Garlate, che rendono impossibile non solo fare il bagno ma anche solo riposarsi sulla riva, considerato l'odore, ha un responsabile, è il depuratore di lecco. Come tutti sanno, l'impianto del bione, ora gestito dall'Ario Reti Holding, risale agli anni 70 del secolo scorso ed è sottodimensionato rispetto al numero di abitanti che serve. Per questo motivo non ha l'autorizzazione a scaricare le acque nell'Ada e da anni il comune capoluogo prima e l'Ario Reti Holding ora pagano circa 100.000 euro di sanzioni all'anno. In realtà, fanno sapere dall'Ario Reti, grazie a una serie di interventi di miglioramento, alcuni dei quali recentissimi, il depuratore non solo ora non puzza più come un tempo ma rispetta anche i parametri per lo scarico delle acque nel lago. Nonostante ciò, per ragioni burocratiche, non ha ancora l'autorizzazione. Al di là delle sanzioni e dei valori, il punto resta che lecco, da almeno 20 anni, necessita di un nuovo impianto di depurazione, ma a oggi non è ancora chiaro dove questo potrebbe sorgere. Dall'Ario Reti fanno sapere, infatti, che nel piano quadriennale di investimenti non è inserito il nuovo depuratore della città capoluogo perché, semplicemente, non essendo ancora stata individuata l'area, non è possibile stabilire né il progetto né tantomeno il costo per realizzarlo. Ci sono due o tre ipotesi in discussione, spiegano, ma finché il comune di Lecco non prende una scelta, le risorse non vengono stanziate e tengono infine a precisare dalla società il problema per la costruzione del nuovo impianto, non sono certo i soldi. La questione, insomma, è squisitamente politica.